Il signor prefetto, il sindaco e tutte le autorità presenti per l'onore che ci hanno fatto ad essere presenti in questa bella, bella, bella iniziativa. Ringrazio inoltre il nostro amico Odighiro che è venuto ad onorarci della sua presenza e ha arricchito questa amica. La nostra festa con un regalo che so che voi aspettavate da tanto. Ringrazio inoltre i nostri amici di Agata e i nostri partner come partner La Sentesse. Ringrazio soprattutto voi per la pazienza che avete avuto tutta la giornata di oggi ad aspettarci, ad aspettarci con questo entusiasmo e a farci vivere questa grande e bella giornata, tutta dedicata a questi bambini che oggi hanno finalmente una scuola materna. Ringrazio tutti e ringrazio tutti i bambini che hanno chiesto tutta la giornata. E sono molto felice e quindi è molto gentile. E soprattutto è felice per i bambini che hanno un'ecole materna. Questa non è la prima iniziativa che come ISCOS noi facciamo a Niammalanga, c'è già un grande progetto di ISCOS che ci segue, la nostra amica Vanda per le donne in particolare per quanto riguarda il vostro orto, ma so quanto voi tenevate a questa scuola materna. Quando a febbraio del 2016 voi avete chiesto a me, a Ferruccio e a Romano se potevamo impegnarci sulla scuola, noi onestamente vi abbiamo detto che non sapevamo se ci saremmo riusciti. Così come avete chiesto nella stessa occasione a Modigiro di impegnarsi se poteva a regalarvi la mototaxi che vi ha portato oggi. Ecco, noi siamo felici di essere riusciti a trovare le risorse dei lavoratori, italiani per realizzare questa piccola ma grande e significativa opera. E vi diciamo fin d'ora, siccome c'è stato richiesto da Vanda, partendo dalle vostre richieste e osservazioni, che ci impegneremo a cercare di completarla con la costruzione della terza aula che secondo noi è assolutamente necessaria per permettere a tutti i bambini e a tutti i piccoli bambini di avere una scuola materna a disposizione. e io prendo l'engagement perché Vanda mi ha domandato che c'è la necessità della terza seczione di cercare tutte le modelle per costruire vite la terza seczione. Termino chiedendovi una cosa, una scuola è un bene prezioso, lo è per voi, lo è per tutte le donne del villaggio, lo è soprattutto per i bambini che dovranno frequentarla. Ecco, tenetela bene da conto, trattatela bene la scuola perché se la scuola è trattata bene la scuola resisterà per anni. Ecco, a noi piacerebbe continuare a venire a trovarvi anche su altri progetti, continuando ad avere, vedere quella scuola che funziona, che funziona bene e con gli alberi che abbiamo piantato oggi, io, il prefetto, il modì, il sindaco e tutte le altre autorità che sono diventate finalmente grandi in un villaggio, il villaggio di Niambalanghe, che è diventato finalmente un villaggio prosperoso. Grazie. Grazie.